Incidente oggi, venerdì 10 febbraio, poco prima delle 17 in via Peraglie a Cucceglio. Una Opel Agila, condotta da un pensionato di 88 anni di San Martino Canavese, è uscita di strada e si è ribaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso, la Croce Rossa di San Giorgio Canavese, i vigili del fuoco di Ivrea, di Rivarolo Canavese e i carabinieri. Il conducente dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale. Non pare grave. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie.